Cosa succede? Si mette le rotaie e tutto quanto, la dimensione, viene fatta apposta per questa carrozza che viene portata avanti da duemila anni ormai Quindi, aspetta, 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 non siamo ne ancora arrivati alla fase più figa Il punto è questo, e questo va a determinare la dimensione di tutte quelle che sono le rotaie in giro per la terra Ok, aspetta, vuoi sapere una cosa divertente? Il fatto che, aspetta, quanto continua e non è ancora finita Quando hanno dovuto creare i primi razzi per poter andare sulla luna e nello spazio, hanno potuto tener conto di una cosa Il fatto che c'erano i tunnel del treno dove dovevano passare questi razzi Oh, vabbè! Per poter portarli da un punto all'altro Quindi, una scelta fatta duemila cinquecento anni fa, ha determinato la larghezza, che non è neanche idonea, dei razzi booster che hanno portato l'uomo sulla luna I romani hanno tecnicamente deciso quanto è largo un razzo booster per arrivare sulla luna Mamma mia, mi sto per alzare dalla se... Grazie!